Detto questo, grazie ai nostri ospiti, rimandiamo il nostro piccolo promo che abbiamo fatto su Movember e poi diamo la linea a Federe e Bruno. The Gap con Andrea Botti e Cristian Cristelli sosteniamo l'iniziativa di Movember. Il mese per la prevenzione contro il cancro alla prostata. Fate tante donazioni e soprattutto eliminiamo le distanze. Stiamo simulando le vostre donate, abbiamo la centralinista. Ci avete mandato tramite Whatsapp. Ma è un telefono erotico normale? Ma sì, fa un po' di tutto. Era rosa, l'abbiamo colorato di nera perché ci sembrava troppo. Mi senti? Sì, ti sento, splendido. Quindi proviamo a sentire, ci avete mandato dei saluti vocali e ve li mando in diretta. Sì, ma l'avete controllato. Aspetta che sono arrivati, hai controllato. Ciao a tutti, sono Svaldo e volevo salutare in diretta Alessio Affatato, volevo dire che ha fatto un balletto molto bello. Il tuo balletto è bello, è bello. Poi volevo salutare Adriano, grandissimo Affi, salutaci e assolutamente devo fare un annuncio. Volevamo dire a Hank che lui è il nostro delfino curioso e le deve conquistare tutte. Ciao. Non so chi sia Hank, ma è il nostro delfino curioso. Si è sentito almeno a casa. Un applauso a quelli che hanno il coraggio di mandare i messaggi vocali. Tra l'altro è amico di Alessio. Oh, bravi. Detto questo andiamo in pubblicità perché subito dopo sarà ancora The Gap, eliminiamo le... Distanze, a dopo.